E poi un'altra cosa, ma pure voi dovete stare vicino ai lavoratori, a noi le passarelle non servono, le passarelle elettorali adesso, di centro, di destra, di sin, non servono, dovete stare vicino a noi. Siamo d'accordo con te, saremo tutti al vostro fianco, lo detto in prima volta e tutti i presenti faranno la stessa cosa.